Eccoci, benvenuti a chi si è messo adesso in collegamento e ben ritrovati a chi ci ha già seguito questa mattina, abbiamo una sessione veramente di grandissima rilevanza che è quella sul cambiamento climatico, si intitola cambiamento climatico, la sfida della sostenibilità comincia ora perché è una delle più importanti, sono tutte importanti per la verità ma noi oggi ci troviamo in un momento veramente molto particolare, se guardiamo i prossimi dieci anni, quella del cambiamento climatico e della sostenibilità è probabilmente la sfida più grande, la più grande che abbiamo davanti. Naturalmente noi oggi abbiamo l'attenzione puntata e tutto il mondo l'attenzione puntata sulla questione sanitaria, è un'altra sfida colossale, enorme, oggi abbiamo sentito che è veramente anche catastrofica sotto molti profili, a un certo punto dovremmo pensare che la supereremo, il cambiamento climatico ci accompagnerà probabilmente per i prossimi decenni. Attiro la vostra attenzione su una cosa, per intenderci su quella che sia la dimensione di questo grandissimo cambiamento che ci aspetta, la questione energetica, la questione della decarbonizzazione, abbiamo trascorso gli ultimi 250 anni all'interno di un regime basato sui combustibili fossili, il mondo, la civiltà contemporanea è basata sui combustibili fossili, molto semplicemente non ce lo possiamo più permettere, dobbiamo fare una transizione energetica che vada oltre i combustibili fossili verso la sostenibilità garantita dalle energie rinnovabili e questo lo dobbiamo fare in una grandissima velocità in 10 anni, in 15 anni, in 20 anni, quindi dobbiamo smontare un'intera economia, un intero mondo basato su combustibili fossili e per andare verso un'altra forma di civiltà. Allora solo questo ci fa capire come sia colossale il tema del cambiamento climatico e non tocco tutti gli altri, sentiremo adesso nella sessione ne verranno toccati molti, ma naturalmente le implicazioni sono molto importanti per ciascuno di noi come individuo per le aziende che devono fare tutta una serie di investimenti e cambiare il modo di produrre, per gli stati che devono mettere finanziamenti, regole, norme e a livello mondiale perché tutto questo va realizzato a livello mondiale. Vediamo la sigla. Allora chiamiamo gli ospiti, la sigla l'abbiamo già vista, chiamiamo gli ospiti, abbiamo con noi Donato Speroni, buongiorno Donato Speroni, segretario del segretariato dell'ASVIS che sarà il chairman di questa sessione. Abbiamo con noi Roberta Marracino, responsabile delle strategie di sostenibilità, diciamo ISG di gruppo di Unicredit e dell'impact banking di Unicredit. Buongiorno Dottoressa Marracino. Abbiamo Federico Fraboni, Sustainability Manager di Calzedonia, del gruppo Calzedonia. Buongiorno Dottor Fraboni. Buon pomeriggio a tutti. Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario di marketing, innovazione e sostenibilità all'Università di Roma 3. Professor Pratesi, buongiorno. E Daniela Bernacchi, segretario generale di Global Compact Network Italy. In sostanza stiamo parlando dell'ONU. Buongiorno Dottoressa. Benissimo. Passiamo immediatamente all'avvio della sessione e quindi la parola a Donato Speroni. Prego. Grazie Enrico. Grazie per le tue parole. Mi permetto di aggiungere solo una cosa, che questa è una sessione che organizziamo in collaborazione con l'ASVIS e con Futura Network. Suppongo che voi tutti conosciate, che cos'è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, quindi non mi soffermo a parlarne. Richiamo l'attenzione vostra anche sul sito Futura Network, che è nato da pochi mesi, proprio perché siamo convinti che in questo momento sia necessario decidere, fare oggi le scelte che condizionano il nostro futuro. Scusate, io sento un ritorno in cuffia. Dunque, qui appunto, giustamente il tema è il climatico, la sfida della sostenibilità comincia ora, per gli argomenti che ha citato Sassoon. Però siamo nell'ambito del Festival del Futuro. Quindi siamo nell'ambito di uno sforzo che dobbiamo fare insieme per immaginarci un futuro di medio e lungo termine. Non è solo un problema, che sicuramente è impressionante di mettere giù più rinnovabili, di risparmiare energia, eccetera, però anche di tenere conto di tutte le implicazioni che questo ha sul piano della sostenibilità. Perché il cambiamento climatico si lega poi a tanti problemi di sostenibilità sociale. Se non li affrontiamo avremo magari migrazioni di massa. Abbiamo visto il problema dei gira gialli nel momento in cui appena in Francia si sono azzardati a aumentare il gasolio. Qui la sostenibilità è al tempo stesso sempre ambientale, sociale, economica e anche istituzionale, perché poi tutto questo si lega al discorso dei diritti e così via. Bene, noi allora in questa tavola rotonda abbiamo concordato di fare due giri di tavola. Nel primo giro di tavola cercheremo di portare la visione di mondi diversi. Cioè chiedo a ciascuno dei partecipanti di dire nel momento in cui ci rendiamo conto che il mondo sta cambiando, che deve cambiare così rapidamente per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che, l'Europa si è posta, ma che in fondo sentiamo tutti che saranno necessari e che forse l'opinione pubblica mondiale stessa ci imporrà. Le imprese, la finanza, il mondo della cultura. Cioè come si preparano, come si immaginano, quali scenari futuri immaginano che possano servire come cornice per affrontare queste cose. E questo sarà un po' il primo giro in cui vi chiedo un po' di andare, diciamo a ruota libera per esprimere la visione del mondo che voi rappresentate. Nel secondo giro invece vi chiederò di fare uno zoom più specifico sulle vostre esperienze, su quello che la vostra azienda, il vostro gruppo finanziario o l'insieme che rappresentate sta facendo in questo momento. Cioè se effettivamente stabilita quella che è la visione, ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo abbastanza e quindi siamo sul sentiero dello sviluppo sostenibile effettivamente o appena lo stiamo abbozzando in questo momento. Bene, io a questo punto comincerei il giro di tavola e comincerei subito con la dottoressa Marracino, che appunto è la responsabile responsabile della strategia ISG, quindi Environment, Social and Governance and Impact Banking di Unicredit, perché ci dia appunto la sua visione, quella che può essere la visione di un mondo della finanza che effettivamente è sempre più sensibile ai temi della sostenibilità, anche nelle scelte, nelle distinzioni fra che cosa va finanziato e cosa non va finanziato. Prego dottoressa. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Piacere di essere qui, diciamo oggi con voi, a condividere dei pensieri che penso siano i pensieri di tanti in questa fase. Mi piace cominciare da un concetto che il nostro moderatore ha appena ricollegato e ricordato, che è noi parliamo di cambiamento climatico, ma in realtà ogni volta che parliamo di tematiche ambientali e quindi di impatto sull'ambiente, dobbiamo tenere presente che le tematiche ambientali, così come le tematiche sociali e di Governance, sono ormai tutte interconnesse, quindi le scelte che facciamo sul fronte ambientale hanno automaticamente anche un impatto sociale e di questo impatto dobbiamo tenere conto. Quindi continuare a ragionare sempre in termini un pochino schematici e verticali, ambiente, sociale e Governance, come se fossero tre componenti separati, probabilmente questo è un aspetto che fa parte del passato e nel futuro dobbiamo abituarci a ragionare sempre di più in modo integrato. Secondo concetto che mi piace ricordare è che un po' sotto la forzatura di questa grande accelerazione di trasformazione, che è anche guidata dalla situazione specifica che stiamo attraversando, quindi la discontinuità che viene creata da questa pandemia e con gli impatti economici, sociali e collegati ci obbliga necessariamente a pensare secondo schemi mentali che sono un pochino diversi rispetto a quelli di prima e mi riferisco su questo, diciamo un approccio nuovo su cui tutti siamo chiamati a ragionare, non solo come settore finanziario ma anche come capi di impresa piuttosto che responsabili con responsabilità di governo all'interno delle istituzioni, perché noi fino a questo momento abbiamo applicato un modello, per il modello che abbiamo spinto quasi forse fino all'eccesso negli ultimi 20-30 anni, accorgendoci probabilmente che mostrava un pochino la corda già da qualche parte, ma senza avere la capacità di invertire la rotta. Adesso abbiamo la grande occasione, un po' per tutti, per ripensare anche i modelli imprenditoriali e i modelli di business di qualsiasi operatore economico, in un certo senso siamo obbligati o comunque ci sono dei fattori che sicuramente ci aiutano ad accelerare. Questi fattori nel mondo economico in generale e quindi anche nel mondo finanziario sono di diversa natura, proviamo a ricordarli un po', prima di tutto abbiamo questa crisi senza precedenti come dicevamo che ci obbliga a ripensare il modello di sviluppo complessivo. Abbiamo una crescente attenzione dei nostri regolatori dal punto di vista per esempio del sistema bancario e del sistema finanziario in generale a queste tematiche. Si è cominciato a parlarne già qualche anno fa, però sicuramente in questo momento c'è una grande accelerazione in questo senso. Abbiamo una grande attenzione degli investitori su tutto il mondo delle grandi imprese e il sistema finanziario, gli investitori stanno decidendo di allocare i loro investimenti, quindi il denaro che in questo momento è abbondante e è a disposizione, su alcune categorie di imprese e di banche e di istituzioni finanziarie in generale rispetto ad altre. Il che significa che c'è anche una competizione per questo tipo di investimenti. Abbiamo una grandissima abbondanza di investimenti pubblici, sia di carattere nazionale che di carattere sovranazionale, pensiamo al recovery fund di cui si è parlato anche nella sessione precedente europeo, il 40% di questi investimenti sono destinati a progetti che hanno un impatto ambientale positivo, l'altro 60% sono tutti progetti che sono un'opportunità per qualsiasi operatore di impresa e anche per le banche ovviamente di innestarsi su un potenziale di cambiamento che in questo momento è anche molto aiutato dallo Stato. Le banche che cosa possono fare in questo scenario e come vediamo noi l'evoluzione del mondo nei prossimi almeno 4-5 anni, ma anche su un orizzonte temporale decisamente più ampio. Noi abbiamo un doppio piano di azione, quello come corporate ovviamente cercando di fare del nostro meglio per decarbonizzarci noi stessi, quindi cercare di raggiungere il 100% dell'energia rinnovabile nell'utilizzo di energia dei nostri building, ovviamente prendendo tutte le iniziative che gran parte delle aziende che sono sensibili sotto il profilo della sostenibilità ovviamente fanno per quanto riguarda l'uso della plastica piuttosto che il riciclo e così via, ma abbiamo come gli investitori un ruolo ancora più importante che è quello di influencer dei comportamenti dei nostri clienti corporate e di accompagnamento verso un modello che è sicuramente un modello più sostenibile. Faccio un esempio per essere un pochino più chiara. Noi dovremmo integrare sempre di più il rischio climatico per esempio nelle nostre matrici di rischio, nei nostri modelli di previsione del rischio e anche nella modalità con cui andiamo ad analizzare il nostro portafoglio di crediti, quindi portafoglio di lending a seconda di quella che è l'industria a cui ci esponiamo, i settori a cui ci esponiamo per capire in rapporto sostanzialmente a quello che è la situazione attuale quanto siamo esposti su settori brown e quanto siamo più esposti invece sul settore green. È dell'ottica di una transizione e quindi di un processo di avvicinamento a quelli che sono gli obiettivi di Parigi a seconda di quelli che sono gli scenari, quindi un grado e mezzo, due gradi o due gradi e mezzo, dobbiamo costruire le nostre traiettorie per allineare questo portafoglio di crediti e per farlo dobbiamo ovviamente cercare di lavorare insieme ai nostri clienti per poterlo indirizzare, quindi questa è una grandissima opportunità di lavoro insieme ai clienti, soprattutto corporate e imprese, perché non basta dire adottiamo una nuova policy per esempio che fa sì che usciamo dal settore del carbone, cosa che per esempio abbiamo fatto a luglio e tra l'altro ponendoci come unicredit tra le migliori banche a livello europeo perché abbiamo deciso di uscire da questo settore entro il 2028, entro il 2028 quindi prima di tutte le altre banche che dichiarano e anche l'Unione Europea diciamo che ha dato obiettivi sicuramente sui tempi decisamente più lunghi, però questo che cosa implica? Che noi dobbiamo aiutare i nostri clienti a fare questa transizione e quindi possiamo e abbiamo la grande opportunità di aiutarli nel trasformare il loro modello di business facendo leva anche su quelle che sono le leve diciamo di investimento pubblico di cui abbiamo parlato prima. È una grandissima questione. Grazie Roberta, io ti chiederei di andare alla conclusione per poi riprendere questi spunti anche nell'intervento successivo. Benissimo, quindi io quello che volevo semplicemente sottolineare, scusa, due cose che sono uno, grande discontinuità, grande discontinuità per tutti, imparare a ragionare secondo paradigmi diversi, questo lo facciamo anche noi, non è un percorso semplice, è un percorso ovviamente che richiederà un po' di tempo e orizzonti temporali che vanno sicuramente oltre i 3-5 anni ma dobbiamo cominciare a pensarci adesso. La seconda cosa è che dobbiamo imparare a ragionare in un'ottica che tutte le decisioni che prendiamo hanno un impatto non solo economico ma anche quelli che sono gli impatti relativi correlati quindi sul fattore ambiente e sul fattore sociale, quindi anche nelle nostre metriche di valutazione delle decisioni questi fattori ormai devono trovare posto e stanno trovando posto. Grazie, certamente questi sono i punti importanti ma quello che viene fuori dal tuo discorso è che il mondo della finanza si sta muovendo. Possiamo dire lo stesso del mondo dell'economia reale, cioè prendiamo l'esempio di un'impresa che fa beni di consumo come Calcedonia, abbiamo qui con noi Federico Fraboni che appunto è il sustainability manager del gruppo e Federico dacci tu una risposta. Non ti sento? Non sento? Prego. Se ci sono problemi passo al relatore successivo. Facciamo così? Ok, allora a questo punto passiamo direttamente al professor Pratesi che è professore di marketing, innovazione e sostenibilità di Aroma 3 e che quindi si è conto anche diciamo alla visione di come questi temi entrano nel marketing e nella comunicazione delle imprese. La sostenibilità è quasi di moda, c'è quasi il rischio che la parola futuro adesso si è contente di moda, ma che cosa c'è in sostanza? Come cambia il marketing? prego. Voi sentite? No. C'è qualcosa in regia che non va. Allora sembra che ci siano dei problemi di collegamento perché non sentiamo né Fraboni né Pratesi, quindi vediamo se da qui, dallo studio, riusciamo a risolvere il problema, altrimenti proviamo a sentire velocemente Donato, se credi, di sentire Daniela Bernacchi in maniera tale da verificare se anche lei ha un problema oppure possiamo andare oltre. Il segretario generale del Global Compact Network unisce un insieme di imprese che sappiamo che sono impegnate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Scusate, io sento molto il ritorno della mia voce, quindi c'è qualcosa che prima non sentivo. Va bene. Daniela, prego. Buongiorno, mi sentite? Perfettamente. Perfetto, quindi andiamo avanti con me. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito al Festival del Futuro. Il Global Compact appunto è un'istituzione, noi coordiniamo principalmente il mondo del business perché i nostri aderenti sono principalmente imprese, ma in una logica multisecholder lavoriamo molto anche con le università, la società civile, governi. Quindi siamo un osservatorio privilegiato sullo stato dell'arte. Quindi tornando agli scenari futuri, quali sono le priorità? Sicuramente bisogna creare un ecosistema che sia favorevole allo sviluppo sostenibile. Questo si può fare con l'impegno dei governi, con le legislazioni adeguate, il Green Deal è sicuramente un ottimo esempio in questo senso, e con l'impegno delle imprese. Teniamo presente che l'ultimo report, UNEP, sulle emissioni dei gas, ci dice che il mondo sta andando verso un riscaldamento globale di 3,2 gradi. Quindi siamo molto lontani dagli obiettivi di Parigi. Ed è chiaro che la soluzione non può avvenire da un solo attore, ma da più componenti congiunte, che sono sicuramente lo sforzo verso la decarbonizzazione, e le imprese possono fare molto in questo senso, ma anche investimenti in economia circolare. In questo senso sappiamo che l'Unione Europea ha dato grandi investimenti per lo sviluppo dell'economia circolare, che ricordo non deve essere solo sul prodotto e sul riciclo, ma addirittura in una logica di procurement sostenibile, e quindi nell'ingaggio delle catene di fornitura, perché dalla genesi del processo si possono avere ulteriori ottimizzazioni. Mi è piaciuto molto il punto toccato prima sul consumatore, quindi il fatto che l'education del consumatore sia un fattore se stessa di sostenibilità, no? E nuovamente se pensiamo agli sprechi e quanto sia importante non solo responsible production, ma anche la cosiddetta responsible consumption, questo è un elemento di attenzione dove le imprese nuovamente possono avere una responsabilità nell'education del proprio consumatore. Abbiamo parlato di finanza sostenibile e le imprese possono fare molto nella finanza sostenibile, abbiamo delle aziende che hanno lanciato gli SDGs Link Bond legati proprio al raggiungimento di target di riduzione della CO2 e di incremento di energie rinnovabili, una di queste imprese è Enel che è un'aderente del Global Compact, oppure il lancio di Green Bond, fatte non solo da istituti finanziari e bancari, ma da imprese stesse. Quindi la responsabilità verso lo sviluppo sostenibile e l'attenzione al cambiamento climatico delle imprese possiamo dire che sia sicuramente nell'agenda di tutti. In ultimo, risottolino quello che è già stato detto, ma che credo sia altrettanto importante, è quello dell'analisi di rischio. Sappiamo che le aziende hanno messo nelle loro analisi di materialità il rischio climatico in maniera molto importante, le società quotate in borsa sono passate in un anno dall'80% al 93% di interesse rispetto a questo item. Cosa significa? Che mentre prima veniva ha monitorato l'impatto del cambiamento, di quello che faceva l'azienda sul cambiamento climatico, oggi le aziende lavorano sui danni del cambiamento climatico sul proprio business. Parliamo dell'oculizzazione di impianti produttivi in Asia che sono vittime di monsoni, alluvioni, allagamenti. Quindi quanto il cambiamento climatico danneggi e metta a rischio la sostenibilità aziendale e questo è un cambio di paradigma importante che attenziona ulteriormente le aziende sulla tematica. In ultimissimo il fatto che il cambiamento climatico è un tema ambientale ma è anche un tema sociale perché ha a che fare con la food security, ha a che fare con la mancanza dell'acqua, ha a che fare con i diritti umani. Proprio prima il nostro moderatore ci diceva che ci sono 70 milioni di persone che migrano nel mondo ebbene quasi il 70% sono migrazioni forzate per effetto climatico e il 30% per effetto di conflitto. Quindi il clima è un tema molto grande e sicuramente le imprese possono fare molto, devono fare molto, la coscienza ambientale sta crescendo ma è anche vero che non possono agire da sole. Quindi ci deve essere un sistema coordinato di interventi rispetto a un obiettivo univico di riportare il riscaldamento del pianeta quantomeno agli accordi di Parigi. Grazie Daniela. Se posso aggiungo un altro dato e cioè che c'è un Sondaluc che dice che c'è il 15% della popolazione mondiale che se potesse cambierebbe paese. Cioè un miliardo di persone che se non lo fanno non lo fanno perché non ne hanno le possibilità economiche. Ma diciamo la dimensione di quei che chiamiamo migranti economici, ma in realtà magari sono migranti climatici e che poi non possono tornare a zone che nel frattino arridiscono, è un problema di dimensioni che dovremo in qualche modo affrontare al più presto. Bene, spero che i collegamenti si siano al più presto, che però durerà per molto tempo. Spero che i collegamenti si siano ristabiliti e quindi devo dare la parola a Federico fra Buccazio d'Atonio. Buon pomeriggio, mi sentite ora? Perfettamente, perfettamente. Ottimo, bene. Allora di nuovo grazie per l'invito, un piacere essere qua. Diciamo che innanzitutto partire con questa domanda non è sicuramente facile. Diciamo che lato imprese la situazione sta cambiando, soprattutto perché è emersa una volontà in primis da parte dei consumatori dei clienti, ad interessarsi a queste tematiche. Sono d'accordissimo con tutto quello che avete detto finora. Cioè, nella maggior parte dei casi il cambiamento climatico, quindi la sostenibilità più ambientale, è l'argomento più trattato. Un po', secondo me, anche perché fa parte di quell'insieme di problemi molto complessi, ma un po' più facilmente comunicabili, anche perché vengono espressi attraverso poche unità di misura, come ad esempio i gas serra emessi in atmosfera. Mentre problemi legati alla sostenibilità sociale sono un po' più complicati da essere letti ancora prima di essere attaccati e risolti. D'altra parte però è nostro compito e compito delle aziende metterle con una giusta prospettiva e riuscire a risolvere entrambe, se non in alcuni casi anche prima la sostenibilità sociale. Da parte delle aziende è necessario quindi un cambio culturale, nel senso che quando si parla di sostenibilità non si parla di un nuovo prodotto, non si parla di una comunicazione più efficace, ma si parla soprattutto di un cambio di cultura. Quindi semplicemente farsi nuove domande nel momento in cui si prendono delle decisioni e quindi deve un po' permeare tutta l'azienda questa nuova filosofia. Le società e le imprese private hanno la possibilità di innovare e di scaricare a terra le capacità che abbiamo dimostrato davanti ad altre problematiche. Uno dei problemi maggiori però è che non godiamo di una unica regia internazionale che possa stabilire delle regole uniche per tutte le imprese e quindi dato che al momento la maggior parte delle scelte che renderebbero un'impresa più sostenibile non è anche la scelta che la rende economicamente più sostenibile appunto, è qua che abbiamo la necessità del supporto degli istituti finanziari, del governo per riuscire a giocare in un ambiente competitivo come è il mercato attualmente a darmi pare con chi effettivamente non vuole puntare anche sulla sostenibilità nella propria strategia di business. Quindi questo qui probabilmente è uno degli aspetti più complicati e che una volta risolta può accelerare il processo di sostenibilità. Cioè nel momento in cui l'azienda può fare la scelta più virtuosa dal punto di vista sostenibile ed è anche quella più economica allora davvero potremmo accelerare questo percorso. D'altra parte però si è visto che moltissime imprese hanno iniziato non solo ad attivare processi di sostenibilità ma anche a rendicontarli perché la misurazione di queste attività e la misurazione degli effetti è fondamentale nel miglioramento continuo e quindi adesso si vedono tanti più report di sostenibilità, bilanze di sostenibilità, ancora ci sono degli scogli molto importanti perché è abbastanza complicato riuscire a confrontare due imprese che hanno due strutture, due supply chain differenti attraverso il loro bilancio di sostenibilità. Quindi questo assieme a delle linee guida accurate sono secondo me il metodo più efficace per andare nella direzione della sostenibilità sia sociale che ambientale. Grazie mille, c'è un ritorno. Certamente l'impresa può rimanere sola, cioè spingersi così avanti sul terreno della sostenibilità da diventare non concorrenziale rispetto alle altre. Quindi è chiaro che in qualche modo devono procedere tutte, però ci possono essere vantaggi a lungo termine nell'investire sulla sostenibilità, però poi c'è un problema immediato perché bisogna sostenere gli investimenti e dall'altro anche con i consumatori che devono capire che questa azienda è un'azienda che guarda a tutti gli shareholders, quindi agli interessi anche dei consumatori delle comunità locali, eccetera, e non soltanto agli interessi, al profitto degli azionisti, è fondamentale secondo me in questo cambiamento. Professore, allora, scusate ma io con i nomi ho sempre difficoltà, professor Pratesi, Carlo Alberto Pratesi, no aspettate, a questo punto, sì, manca il professor Pratesi mi sembra, scusate ma abbiamo confuso. Ok, allora. Datemi un segnale che non so se mi state sentendo, immagino di sì, spero. Perfettamente, perfettamente. No, aggiungo che allora, professor Pratesi, che è appunto professore di marketing, innovazione e sostenibilità a Roma 3, un bel campo di... Esatto, esatto, grazie. Sì, allora, approfitterò dei miei quattro minuti per dirvi un po' la mia sensazione. Sette, nel primo giro può averne sette. Ah, sette, ok, meglio. Per darvi un po' la mia panoramica di come vedo il tema, naturalmente dire che oggi la situazione è drammatica, che dobbiamo fare qualcosa e che la sostenibilità è l'unica strada mi sembra oramai una ovvietà e sul quale non solo le aziende, ma abbiamo visto anche le banche e le istituzioni sono tutte assolutamente d'accordo, i consumatori, i distributori, quindi c'è una grandissima sinfonia di attori che dicono bisogna fare qualcosa al mondo se no finisce. Perfetto. A questo punto però bisogna capire perché si è creato questo problema e soprattutto come intervenire. Allora, un elemento che forse vorrei dare per far capire che questa è una crisi un po' diversa rispetto alle altre crisi che abbiamo avuto è che in questo momento l'evoluzione, o meglio, quello che sta succedendo sul mercato, la velocità in cui il cambiamento sta imponendo è superiore alla velocità che la specie umana ha avuto di adattarsi nel tempo. Cioè noi di crisi ne abbiamo viste veramente tante, noi non intendo come generazione ma diciamo come specie animale e ce la siamo sempre cavata abbastanza bene perché abbiamo uno spirito e una capacità di adattamento molto forte. In questo caso la velocità di quello che succede di anno in anno, addirittura di mese in mese, è talmente rapida che aziende, consumatori, istituzioni francamente non riescono a stare al passo, anche perché modificare i processi, modificare i modelli, modificare i prodotti, i servizi, chiaramente richiede tempo. Richiede tempo, come richiede tempo, modificare le abitudini. Quindi questo sfasamento è un po' la fonte dei nostri guai in questo momento. Allora come bisogna reagire? Beh innanzitutto il vero problema è anticipare le fossibili e future evoluzioni. Cioè non possiamo limitarci a osservare i trend, non possiamo limitarci a osservare quello che succede giorno per giorno, dobbiamo iniziare a prevedere il futuro o immaginare quali saranno i possibili futuri che sono davanti a noi. Questo purtroppo ci obbliga a dover cogliere dei segnali. dei segnali deboli, perché come ci hanno insegnato i cigni neri difficilmente vengono in qualche modo previsti da dei trend, dagli scenari o dalle ricerche di mercato. I grandi problemi in genere vengono annunciati da piccoli segnali che magari arrivano anche anni prima. Se parliamo della pandemia, che è il problema principale adesso, sappiamo che c'erano stati dei segnali forse neanche così deboli che qualcosa sarebbe successo. Però ci siamo in qualche modo rassegnati, non più che rassegnati, diciamo impigriti, perché in genere le cose capitavano più lentamente, abbiamo detto forse in passato, ma quando succederà qualcosa ci inventeremo. Ecco, questo atteggiamento oggi non è assolutamente più possibile. Quindi dobbiamo ragionare adesso su quello che potrà succedere e dovrà succedere tra adesso e i prossimi anni. Questo quindi cosa implica? Implica che il nostro sforzo è quello di provare a immaginare futuri possibili da oggi in poi e individuare quelli che ci sembrano più, diciamo così, auspicabili e lavorare oggi per riuscire a raggiungere quel futuro e non un altro futuro. La sensazione che fino ad oggi abbiamo avuto che ci fosse quasi una linea temporale retta tra il passato, il presente e il futuro è una sensazione sbagliata. Noi abbiamo il passato che è sicuramente una linea retta fino al presente, ma dal presente in poi si dipanano tantissime possibili strade e ognuna di queste dipenderà ovviamente da quello che facciamo oggi. Quindi in qualche modo ci viene richiesto di avere un atteggiamento un pochino proattivo, non cogliere soltanto i segnali e agire per quello che succede oggi, ma provare ad agire per quello che potrebbe succedere domani o per quello che noi vorremmo succedesse domani. Quindi abbiamo due in pratica suggerimenti che vorrei dare. Il primo è di iniziare appunto a lavorare sui segnali e prospettare i possibili scenari e scegliere quello in cui ci piacerebbe vivere in futuro. E secondo prendere delle scelte sulla base di tanti modi di essere sostenibile. Ecco, un tema che vorrei assolutamente sottolineare che parlare di sostenibilità come una strada giusta che si contrappone a una strada sbagliata della non sostenibilità è una grande ingenuità ed è una visione molto semplicistica del problema. In realtà esistono tanti modi di intendere la sostenibilità e dovremmo scegliere quello che ci è più congeniale anche perché esistono dei trade-off o delle alternative che non sono tra di loro conciliabili. Vi voglio solo fare un esempio di cinque possibili scenari di sostenibilità. C'è uno scenario per esempio che oggi va molto di moda e lo definirei uno scenario un po' autarchico. Ognun per sé, dio per tutti. Compriamo i prodotti locali, chilometro zero, cerchiamo di difendere i nostri confini e di vedere la sostenibilità come una sorta di fortezza all'interno della quale noi dobbiamo difenderci. Non voglio dire che sia giusto o sbagliato ma sicuramente è un tipo di approccio che è diverso rispetto a uno scenario più aperto, più collaborativo, più che vede la collaborazione anche tra popolazioni, culture, anche specie diverse come unica soluzione verso la sostenibilità. Il fatto di non vedere l'uomo diverso da tutte le altre specie animali e di vedere come il problema sia un problema comune che possa essere risolto soltanto da una collaborazione è un modo molto diverso rispetto al precedente di interpretare la sostenibilità. Poi abbiamo uno scenario che è molto incentrato sull'innovazione e sulla tecnologia. Non si contrappone necessariamente agli altri ma certamente porta molta attenzione su quello che è la ricerca e quindi in qualche modo conferma quell'atteggiamento che alcuni di noi hanno che alla fine ce la caveremo con qualche invenzione innovativa che poi se volete una visione opposta di chi invece un tempo veniva definito da quelli della decrescita, cioè che dicevano puoi inventarti quello che ti pare con una popolazione che esplode e i consumi che aumentano non ci sarà invenzione che servirà a renderci disponibili. Quindi l'unica soluzione è cambiare modello e addirittura ritornare al passato o ridurre quello che un tempo veniva considerato il progresso, considerarlo invece la principale fonte dei propri guai. E poi c'è un ultimo scenario che è quello della circolarità, anche questo chiaramente ben sostenuto da ricerche, che dicono guarda tu in realtà puoi continuare a progredire, a svilupparti quanto ti pare, basta che non crei danni, non crei sprechi, utilizzi tutti i tuoi rifiuti, quindi trovi dei sistemi che in qualche modo assomigliano a quelli della natura dove nulla si crea e nulla si distrugge, tutto può essere riutilizzato. Quindi autarchia, collaborazione, circolarità, innovazione e decrescita sono se volete tre modi per interpretare la sostenibilità. Non sono sempre conciliabili l'uno con gli altri e io credo che sia giunto il momento che istituzioni, aziende e se vogliamo anche singoli consumatori inizino a pensare quali sono i propri valori, come noi vogliamo interpretare, perché a un certo punto ci viene chiesto di scegliere e se non scegliamo in tempo e quindi se non prevediamo in tempo e decidiamo la strada che vogliamo percorrere, rimarremo costantemente sempre più oggetto dell'imprevisto e delle crisi che purtroppo saranno sempre più rapide e sempre più vicine e noi non potremo prevenirle ma semplicemente reagire a valle e come vediamo è molto costoso e spesso neanche troppo efficace. Scusami Donato, permettimi di inserirmi pochi secondi in questo panel efficacissimo perché in realtà ci sta dimostrando, ci sta esponendo quelle che sono un po' tutte le tematiche che noi affronteremo in questi due giorni e mezzo di Festival del Futuro. Ma vorrei sottolineare soprattutto quanto è stato detto un po' da tutti, vale a dire bisogna guardare in maniera programmatica al futuro, prepararlo perché se non lo prepariamo il futuro naturalmente ci supera, il cambiamento è estremamente veloce. Ecco vorrei sottolineare che questo è proprio il lavoro che noi facciamo ormai da molti anni con il progetto Macro Trends che è liberamente scaricabile come vedete anche da quello che viene richiamato all'interno dello schermo, molto spesso vedete il link per scaricare questo rapporto Macro Trends che è appena stato pubblicato, ebbene la logica con cui i 30 e più esperti che lavorano annualmente su questo lavoro, su questo progetto, su questa pubblicazione è esattamente questa, quella di guardare i segnali deboli, quella di cercare di capire dove andiamo e in che modo proporre le soluzioni per arrivarci. Ecco scusatemi per l'inserimento, andate pure avanti con la insieme. Ecco, adesso c'è qualche problema di audio proprio dal nostro moderatore Donato, c'è qualche problema di audio. Non mi sentite? Molto discontinuo. Non ho cambiato niente, adesso mi sentite? Sì, adesso ti sentite. Dicevo che parallelamente anche a questo progetto importante al quale lavori da tempo c'è il sito che abbiamo creato insieme anche con te Enrico, che proprio si chiama Futura perché gli scenari sono diversi e dobbiamo valutare, come diceva appunto Pratesi, e dobbiamo valutare qual è il migliore. Però riflettiamo su una cosa, io nell'ultimo editoriale che ho scritto per l'ASVIS ho parlato di grande pandemia economico-sociale, che non è un cigno nero, perché questa pandemia è stata un cigno nero, non ce l'aspettavamo, ma quelle che sono le conseguenze del cambiamento climatico, sia sul piano ambientale, sia sul piano sociale, sono già scritte, lo sappiamo abbastanza bene. Allora il problema è che stiamo facendo abbastanza, dobbiamo fare di più. Quindi in questo secondo giro io chiederei a ciascuno di voi un po' di raccontare le buone pratiche del mondo e proprio anche dell'azienda, del soggetto in cui è impegnato. Volevo anche chiedere però appunto a Roberta Marracino dell'Unicredit, ma va bene accompagnare i consumatori, ma a volte non sono i consumatori che sono più avanti delle banche, non c'è anche una parte di sensibilità di giovani, di gente che vuole comunque la finanza etica. Com'è il rapporto tra l'istituzione e il consumatore? Prego. Rispondo subito e molto volentieri a questa domanda. Allora noi dobbiamo distinguere tra clienti retail e clienti corporate. Sui clienti retail questa sensibilità c'è e soprattutto sulle giovani generazioni è molto più marcata, però devo dire che non sempre associano alla disponibilità di acquistare dei prodotti anche finanziari più etici la possibilità di sacrificare una parte del rendimento per una finalità che è buona. Fino a questo momento quello che noi osserviamo anche nel comportamento dei consumatori retail è un'attenzione comunque al rendimento e alla remunerazione sull'investimento che rimane comunque primario rispetto alla disponibilità diciamo a investire per finalità etiche. Quindi l'investimento etico è ancora appannaggio soprattutto di una ristretta minoranza e delle nuove generazioni. Noi sappiamo che i grandi risparmiatori probabilmente non sono ancora la giovane generazione ma sono quelli un pochino più agi. Quindi in realtà dobbiamo agire soprattutto su questi. Poi c'è invece il comportamento delle aziende corporate che sono quelle che guidano la parte consistente invece dell'attività delle banche. Per questo prima ho parlato della necessità di lavorare insieme tutto con i clienti corporate, con le aziende in questa transizione perché c'è un effetto diretto con l'azienda stessa è un effetto indiretto che nel momento in cui c'è il cambiamento del modello di business dell'azienda questa è una ricaduta direttamente anche sui suoi stakeholder, quindi sui dipendenti, sulla sua community e così via. Quindi questo è se vogliamo quello che è l'impatto più importante che noi come sistema bancario possiamo raggiungere e indirizzare. Che cos'è che stiamo facendo come Unicredit? Moltissimo, tantissime cose e quello che è importante e che faremo ancora di più perché raccogliamo la sfida di questo momento che è una sfida epocale per la nostra generazione e che ha la responsabilità ovviamente di costruire un mondo un po' diverso Non ti sento più Generazioni che ho fatto, ovvero non cogliere alcuni segnali Mi sentite? Un po' saltuariamente? Adesso sì Adesso mi sentite? Ok Dicevo la sfida da parte nostra è quella di accogliere un po' il commitment a lavorare per le giovani generazioni sapendo che dobbiamo lasciare loro un mondo un pochino diverso e quindi facendo possibilmente più attenzione ai segnali che abbiamo un po' trascurato in passato nello specifico dove ci stiamo dirigendo come Unicredit Allora, prima di tutto ci siamo dati degli obiettivi molto ambiziosi dei target da raggiungere, per esempio per quanto riguarda i finanziamenti green l'emissione di sustainable bonds e abbiamo già una posizione di primaria importanza in Europa in questo ambito ricordiamo che il sistema finanziario europeo e le banche europee sono una best practice nel mondo in questo momento l'Europa sta tracciando la strada anche per gli altri e le banche europee stanno veramente facendo un grande lavoro in questo senso stiamo ragionando per scenari come dicevamo prima traghettando il nostro portafoglio di crediti da una situazione in cui finanziamo di più in questo momento delle industrie che sono anche un pochino brown per traghettarle verso uno scenario più green e quindi questo non è scontato perché integrare tutti questi aspetti nei meccanismi di rischio di una banca è abbastanza complicato stiamo lavorando anche per integrare nelle nostre decisioni creditizie un merito di sostenibilità dei nostri clienti corporate il che significa che tra uno o due anni potremmo anche dire a un'azienda guarda se tu sei più sostenibile c'è un fattore di merito creditizio che quando ti diamo un prestito ha la sua importanza anche nel definire il pricing e questo può ovviamente giocare a favore anche di una trasformazione dei nostri clienti e poi stiamo facendo moltissimo sul piano sociale perché come abbiamo detto prima la parte ambientale non è scollegata dalla componente sociale noi possiamo anche fare una policy di uscita dal carbone entro il 2028 ma dobbiamo anche essere consapevoli che una decarbonizzazione di alcuni settori può creare un impatto sull'occupazione di quel settore quindi dobbiamo essere fortemente consapevoli di quelle che sono le interconnessioni ed è per questo che abbiamo anche un braccio social che è la Social Impact Bank che lavora proprio su questo fronte anche per garantire finanziamenti e credito a quella parte di mondo che fa più fatica sostanzialmente ad essere incluso dal punto di vista finanziario questo solo per fare alcuni esempi Perfetto, scusate se adesso vado rapidamente per mantenere i tempi che ci sono stati indicati Francesco Frabboni di Alzedonia in una grande impresa come la tua la percezione della sostenibilità della necessità di questa visione, di queste strategie a medio termine come procede, con quale difficoltà, con quale dialettica e con quali risultati? Prego Torniamo ad avere difficoltà di audio Aspetta, non ti sentiamo Puoi parlare un attimo, professor Pratesi se può parlare e sentire se il suo audio funziona? Allora, io sto parlando adesso Sì, allora, l'audio di Pratesi funziona, quindi si può donato alternare Beh, allora intanto faccio una domanda a Pratesi proprio che, nel senso che, è vero, c'è una maggiore percezione della necessità ho un ritorno io adesso, una maggiore percezione della sostenibilità ma come si può far capire ai consumatori che non basta, dico una banalità, chiudere l'acqua quando ci si lava i denti ma che i cambiamenti che sono necessari per arrivare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità necessari sono ben più profondi e senza credere, senza parlare di decrescita felice perché non sarebbe comunque felice ma come erano molto più pesanti anche le strategie politiche e come i cambiamenti di comportamento delle persone almeno secondo la mia convinzione Certo, beh, sicuramente è la sfida principale perché il cambiamento collettivo da sempre non è stato un risultato facile da ottenere un cambiamento nei comportamenti pensate, faccio solo un esempio ma quante campagne sono state fatte per ridurre la propensione al fumo una cosa, se vogliamo, banale rispetto ai problemi di oggi oggi i ragazzi giovanissimi, io vedo, fumano come prima e ci sarebbero tutti i motivi perché loro invece smettessero quindi da sempre il cambiamento dei comportamenti non è stato fatto in maniera facile occorre quindi qualcuno che lo spieghi e soprattutto che definisca ai progetti un tipo di comunicazione che sia efficace a seconda dell'interlocutore Ora, quello che dicevo prima dei diversi modi di interpretare la sostenibilità vuol proprio dire che quando noi raccontiamo la sostenibilità e l'impegno dobbiamo quanto più possibile avvicinarci ai valori che i nostri interlocutori riconoscono come veramente validi se c'è oggi, e banalizzo sempre molto questo grande interesse alla difesa dell'identità locale e al chilometro zero per intenderci non sarà difficile portare i nostri consumatori in quella direzione se invece c'è un interesse maggiore su altri ambiti per esempio quello della biodiversità che oggi sta molto prendendo piede per fortuna bene, allora lì i messaggi potrebbero agganciarsi quindi il tema in sintesi non è tanto quello di spiegare o dare istruzioni che poi fatalmente le persone hanno fatica ad applicare ma provare a dimostrare che quello di cui stiamo parlando è vicino all'interesse e ai valori delle persone insomma ricordiamoci in passato ci sono dei giovani che sono andati spensieratamente in guerra perché pensavano che fosse la cosa giusta da fare c'erano dei valori che in qualche modo giustificavano un sacrificio assolutamente inspiegabile da altri punti di vista oggi noi stiamo chiedendo uno sforzo di lavarci le mani e di chiudere la luce o di mangiare magari meno carne beh, insomma, diciamo siamo a dei livelli inferiore se non siamo riusciti ad ottenere il risultato è probabilmente perché non l'abbiamo agganciato ad un valore su cui le persone realmente credono credo che proprio questo concetto di gerarchia dei valori di priorità e di impegno non è che le generazioni di oggi non lo abbiano più è semplicemente che nessuno glielo sta raccontando nel modo giusto quindi credo lo sforzo di tutti noi delle aziende, dei distributori, delle istituzioni, della scuola è rifare un percorso valoriale perché questo è quello che induce le persone le persone si muovono e cambiano per un ideale non si muovono e cambiano per ridurre la loro CO2 personale questo purtroppo non funziona o funziona soltanto su piccoli segmenti di persone quindi il vero innovazione sarà proprio un'innovazione nella comunicazione della sostenibilità e questo credo che richieda ancora un po' di ragionamento perché siamo ancora un po' indietro abbiamo ancora un atteggiamento potremmo definire un po' genitoriale e di regole e non di valori e di emozioni è un bellissimo tema che poi a me come giornalista ovviamente mi interessa moltissimo sì, però la comunicazione hai ragione ma poi è anche legata alla comunicazione politica cioè al modo in cui i politici vogliono comunicare quindi l'intreccio è molto difficile da sciogliere insomma il nodo bene, volevo chiedere a Daniela Bernacchi aspettando poi il collegamento con Federico Fraboni il mondo che tu hai sotto gli occhi si sta effettivamente muovendo cioè le buone pratiche tu le vedi? noi abbiamo uno scenario di riferimento in cui l'Italia nell'ultimo report SDSN Network aveva perso una posizione cioè da 29esima su 166 paesi era scesa a trentesima con diciamo segnalazione rossa allarme rosso su 3 SDGs esattamente il Climate Action il 14 Life Below Water che è sempre chiaramente un impatto climatico e il 9 Industry Innovation Infrastructure quindi dal nostro punto di vista c'è un percorso da fare dall'altro noi come Global Compact abbiamo un report che riguarda solamente le aziende aderenti dove si vede che le aziende italiane aderenti al Global Compact hanno un commitment più alto rispetto alla riduzione dell'impatto ambientale rispetto alla media delle aziende europee quindi c'è una buona sensibilizzazione sappiamo che nel settore energetico che il settore energetico occupa il 60% dell'impatto ambientale quindi una buona dose e l'altro 25% di grande impatto sui gas clima alteranti è dovuto dall'agribusiness e dall'agrifood quindi queste segnalazioni ci danno comunque un quadro di quali sono le priorità di intervento il Global Compact come interviene intanto assieme a CDP Carbon Displosion Project ha lanciato i Science Based Target e quindi chiede all'azienda di sottoscrivere un commitment rispetto alla riduzione delle proprie emissioni sia dirette ma anche indirette che è lo scope 3 e quindi nelle emissioni indirette si tratta di coinvolgere la catena di fornitura quindi un'ambizione ancora più elevata in particolar modo chi sottoscrive l'ambition point lo scope 3 addirittura ha un'ambizione di un punto di un grado virgola 5 quindi ancora più bassa rispetto agli altri Scusa, l'ambizione di agire per mantenere l'aumento di temperatura entro un grado virgola 5 che è difficilissimo? Esattamente, è difficilissimo in Italia noi abbiamo 9 aziende che hanno sottoscritto gli obiettivi e 18 il commitment quindi abbiamo, se vogliamo essere positivi oggi un mondo di opportunità davanti e su questo il Global Compact lavora moltissimo con webinar support tool per ingaggiare le imprese e affinché le imprese a loro volta lavorino sulla catena di fornitura altro elemento che mi sento di segnalare e condivido pienamente la visione di Pratese è quello valoriale perché poi l'escrizione al Global Compact è un commitment verso gli SDGs ma una sottoscrizione di 10 principi che sono in quattro aree diritti umani lavoro ambiente e anticorruzione e per l'ambiente noi abbiamo tre principi che sono esattamente l'approccio preventivo la maggior responsabilità ambientale e in ultimo lo studio la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente quindi sull'approccio valoriale mi sento di dire che effettivamente incide sulle strategie aziendali ciò non di meno gli strumenti poi pratici sono un supporto di guida che possono sostenere le aziende aderenti per cui da entrambi i punti di vista azione e valori vanno a braccetto rispetto al cambiamento climatico mi sento di dire e si parla tanto di just transition quindi di una transizione che sia giusta e che nuovamente ci riporta a dire che il modello economico precedente non andava bene perché non dava un futuro alle generazioni future e che l'intervento deve tener conto dell'impatto di lungo periodo quindi per questo motivo il Global Compact ha anche delle iniziative di coinvolgimento dei giovani quindi c'è questo programma Young Innovators Program dove giovani imprenditori o comunque i futuri manager vengono coinvolti su queste tematiche proprio perché hanno uno spunto anche di innovazione da portare a noi che magari siamo nella generazione precedente e quindi il loro coinvolgimento è senz'altro un valore aggiunto importante queste sono diciamo le aree di intervento principali poi se vogliamo approfondire l'attività del Global Compact è sempre di certo avete poi tutte le possibilità con i siti e con le vostre informazioni va benissimo riusciamo allora a collegarci con Federico Fraboni pronto mi sentite adesso perfettamente perfettamente ok fantastico cercherò di essere conciso riprendendo la domanda di prima sicuramente è una situazione complessa e riusciamo però ad avere delle sfacciattature rispetto anche le informazioni che riceviamo e analizziamo riguardo la sostenibilità perché da un certo punto di vista siamo a contatto col mercato e appunto sempre più clienti sono consapevoli della situazione di cosa significa sostenibilità e vogliono con il loro potere di clienti appunto di consumatori apportare qualche modifica dall'altra parte abbiamo anche un bagaglio di valori aziendali che ci porta in questa direzione e per questo diciamo ripercorro un attimino e molto brevemente la struttura di Calzedonia cioè il gruppo Calzedonia è sì una azienda commerciale che appunto ha diverse reti di negozi rete commerciali di negozi monomarca ma a differenza della maggior parte delle altre aziende del settore è integrata verticalmente quindi noi all'interno della nostra struttura abbiamo aziende di tintura di confezione e diciamo questo rappresenta un pochino la filosofia dell'azienda di far bene le cose mettendoci la faccia e quindi essendo visibili in primo piano in tutto quello che facciamo a partire dal design del capo dalla produzione la distribuzione logistica la vendita in negozio questo si ricollega ai temi di sostenibilità per le questioni di tracciabilità e trasparenza che nell'ambito della moda sono sempre molto complicate e su cui noi possiamo effettivamente dire la nostra un altro approccio molto importante che si deduce da questa iniziativa da questa strategia è il fatto di voler fare degli investimenti che durino nel tempo cioè noi siamo presenti con proprietà con responsabilità in diverse parti del mondo e con diverse tipologie di investimento con l'ottica di mantenerle nel tempo più lungo possibile e un'altra caratteristica appunto dei temi di sostenibilità è quella di guardare a lunghissimo periodo e diciamo queste due queste tipologie di principi che creano e sono diciamo permeati già all'interno del gruppo hanno fatto in modo che l'anno scorso si creasse anche un nuovo progetto che è stato definito Sea Evolution e che non è altro che un raccoglitore di tutte quelle iniziative che vogliono minimizzare migliorare l'impatto dell'azienda in termini ambientali e migliorare anche l'impatto in termini sociali con le comunità con cui entrammo in contatto il nome stesso è un sottolineare il fatto che come Calzedonia non vogliamo definire un punto di rottura con il passato ma anzi vogliamo tendere verso un miglioramento continuo è chiaro che questo miglioramento è molto complicato e ha tantissime sfaccettature noi solitamente classifichiamo attività interne ed attività esterne per quanto riguarda le attività interne già da diversi anni abbiamo iniziato ad acquistare elettricità rinnovabile abbiamo diversi paesi fra cui ad esempio l'Italia la Croazia che funzionano interamente con elettricità proveniente da fonte rinnovabile questo ci fa risparmiare un po' in chiusura di tempo quindi ti chiederei di essere sintetico scusami diciamo che diverse attività interne e anche esterne fra quelle sicuramente volevo menzionare anche l'advisione al Fashion Pact che è appunto una coalizione di più di 60 gruppi della moda e questo ci ha permesso sia di definire degli obiettivi molto ambiziosi in termini di mitigamento del cambiamento climatico di ripristino della biodiversità e di protezione degli oceani ma è anche un simbolo del fatto che noi da soli come azienda possiamo fare molto ma non è sufficiente cioè abbiamo bisogno di collaborare con tante altre aziende e altre comunità se vogliamo che i cambiamenti che stiamo cercando di porre in essere siano effettivamente efficaci e possano quantomeno sperare di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti a livello internazionale perfetto ti ringrazio molto prendo 30 secondi scusate prendo 30 secondi per un'ultima considerazione abbiamo una domanda a cui risponde cambiamento climatico la sfida della sostenibilità comincia ora se ci mettiamo un punto interrogativo direi che sì dai mondi che ci avete raccontato le cose si stanno muovendo a mio parere c'è un convitato di pietra e due incognite il convitato di pietra è la politica perché rispetto a tutte queste cose se poi non non abbiamo anche delle azioni politiche adeguate non riusciamo a raggiungere gli obiettivi le incognite una si chiama resto del mondo perché per esempio il piano della mitigation non possiamo pensare di risolvere le cose se non affrontiamo meglio il problema del rapporto con i paesi che comunque devono crescere e questa è una cosa che mettiamo sempre sotto il tappeto ma che invece va affrontato e l'altro è il ruolo della tecnologia quanto la tecnologia potrà effettivamente aiutarci non solo perché la tecnologia deve essere inventata ma perché dobbiamo investirci e magari in tecnologie molto difficili e questa è una grande incognita io ho trovato questo dibattito molto interessante quindi ringrazio tutti ringrazio Enrico Sassun che ha promosso queste iniziative e vi do appuntamento al prossimo dibattito grazie grazie Donato siamo noi che ringraziamo tutti voi per veramente questo efficacissimo panel anch'io vorrei fare un'ultima considerazione rispetto alle cose che sono emerse che sono molto importanti vale a dire per chi come me anche come te alcuni altri si occupa di queste questioni di questioni di sostenibilità ormai da parecchi decenni c'è una differenza fondamentale che è data dal fatto che 30 o 40 anni fa c'era un mondo ambientalista che era assolutamente in contrasto col mondo delle imprese e un mondo internazionale della politica e delle grandi istituzioni che si occupava poco di queste questioni di sostenibilità e soprattutto niente di potenziale cambiamento climatico bene quello che noi abbiamo verificato oggi ma ormai lo verifichiamo costantemente è che c'è oggi un grandissimo allineamento sull'urgenza della situazione ma soprattutto sulla realtà concreta di questa situazione e la necessità di fare tante cose quindi le persone ognuno di noi ma soprattutto le aziende che fanno materialmente che devono fare le banche le istituzioni finanziarie il mondo della politica anche se naturalmente andrebbe sollecitato di più e soprattutto forse le dobbiamo citare le istituzioni sovranazionali che devono infondere maggiore energia a tutto questo quindi grazie grazie per il vostro intervento e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 15.45 per il prossimo panel grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti